E' tuo, Gabriele, il viso che m'ha sorpreso in chiesa nell'ora all'imbrunire, come a farsi docile all'unghia del tempo. La forza è nel pensarti vivo mentre si fa miracolo l'odore d'incenso, che va leggero come uno scialle e apre il cuore in largo singhiozzo. In questi silenzi non sono che un passo lontano, tra sasso, fiume e mani d'erba. Scioglie questo filo di giorno l'assillo delle voci a campana. Guardandoti, penso che forse una concava notte poggere la guancia al mio tempo e insegnarmi come si declina la più sentita preghiera. Amiche ed amici di Rete 8, buonasera da Lorenzo Valeriani e bentornati al Festival Abruzzo dal vivo Rete 8 Tour Village. Siamo nel piazzale San Gabriele di Isola del Gran Sasso, a pochi metri dal famosissimo santuario proprio intitolato al Santo dei Giovani, per raccontarvi le emozioni di questa serata. Ci sarà un concerto ampiamente dedicato ad Ennio Morricone, maestro scomparso il 6 luglio scorso e in anteprima un video promozionale a livello turistico ideato da Sandro Galantini che ci racconterà un po' la storia di questo territorio con l'invito per i tantissimi turisti e i tantissimi fedeli a visitare questa zona che è davvero meravigliosa. Andiamo a scoprire innanzitutto i protagonisti con la nostra Maria Carannante e poi seguiremo con voi l'intero concerto. A dopo. E sognò la libertà E sognò che andare via, via, via E l'anello vive già Sulla mano di Maria Tra poco avrà inizio questo meraviglioso concerto e noi siamo forse con l'attore principale perché con il direttore d'orchestra Nicola Gaeta vogliamo un po' scoprire quello che sarà il concerto appunto di questa sera, quello che sarà il programma incentrato ovviamente sul grande maestro Ennio Morricone. Questo è uno spettacolo unico che nasce con la collaborazione di Luigi Friotto e con tutta l'associazione nel novecento. Uno spettacolo in cui è protagonista l'orchestra, in cui è protagonista Friotto e banda autore con la musica di Ennio Morricone, con la musica cantautorale, con la musica di Nino Rota e con tutta la bella musica italiana da film e cantautorale. Questa è una manifestazione per valorizzare quei territori che negli anni passati hanno sofferto tantissimo. È la musica giusta per dare la spinta ulteriore alla ripartenza, non solo per il sisma ma purtroppo da quello che stiamo vivendo anche il post-covid che purtroppo ha bersagliato non solo questi territori ma tutto il mondo? Diciamo che quello che abbiamo passato non si può cancellare, non è indelebile però la musica è una delle vie più belle per allontanarci da questi brutti pensieri. Qualche sorpresa ci sarà all'interno del programma oppure filerà tutto liscio così come abbiamo letto sul programma? Diciamo che tutti i brani hanno all'interno una sorpresa, sta l'ascoltatore. La durata? La durata è di circa un'ora e mezza lo spettacolo. Allora in bocca al lupo direttore, speriamo, anzi siamo certi di ascoltare dell'ottima musica. Viva il lupo perché siamo in questo bellissimo paesaggio. Grazie. Allora in bocca al lupo direttore, speriamo, anzi siamo certi di ascoltare dell'ottima musica. Allora in bocca al lupo direttore, speriamo, anzi siamo certi. Sul palco tra poco anche il quintetto Friotto. Al direttore ho detto c'è qualche... è banda autore. Al direttore ho chiesto ma ci sarà qualche sorpresa? Dalla tua faccia qualcosina però ce la nascondete? Nessuna sorpresa in particolare, noi siamo un quintetto, anzi un sestetto di cui fa parte anche il maestro Gaeta che questa sera sveste i panni del flautista e veste i panni del direttore d'orchestra. Noi siamo una formazione che va in giro da un bel po' di anni. Qualcuno ci ha già visti anche in particolari concerti sull'acqua, zattere galleggianti lungo la costa dei Trabocchi e non solo. Quindi uno spettacolo della natura per quel che ti riguarda anche stasera perché insomma siamo nei pendici del Gran Sasso. Al buio però la location invita ad ascoltare buona musica e stasera c'è Ennio Morricone sul palco. Sì, questo è tutto in linea con il disco che è uscito qualche anno fa, ce n'è adesso un altro in arrivo. Il disco era lucernario e si ispirava proprio ai quattro elementi della natura. Quindi noi amiamo posti suggestivi per esprimerci con la musica. Questa sera non solo ci sarà Morricone sul palco, idealmente, ma anche altri grandi autori di musica cinematografica, canzoni mie e canzoni dell'antologia più bella del cantatore del italiano. Ho chiesto anche al direttore, è un festival, quello di Abruzzo dal vivo, che vuole far ripartire le zone colpite dal sisma e purtroppo, come tutto il mondo, un territorio che si è fermato per il lockdown. È la musica giusta questa per toccare l'anima? È la musica giusta per dare un senso a questa sospensione, lo dirò anche poi nel corso dello spettacolo. Non è stata una reclusione, è stata una sospensione e ci ha dato l'opportunità di arrivederci un po' introspettivamente e diventare migliori, probabilmente. I prossimi impegni? Domani saremo in una location suggestiva, saremo a Larino nell'Anfiteatro Romano. E poi in sette saremo a Canosa Sannita per uno spettacolo diverso, che si chiama Canzoni per terra e per mare, che è una circonnavigazione della musica italiana, che parte dal porto di Genova e arriva sulle coste dei nostri trabocchi. E allora in bocca al lupo! Viva il lupo! Viva il lupo! Viva il lupo! Come sapete tutti, amo le notizie che arrivano all'ultimo momento, all'ultimo secondo e una di queste riguarda Sandro Galantini, perché dal comune mi dicono che c'è una sorpresa con la tua voce, la tua immagine. Che cosa succederà tra poco? Sì, allora questa sera presenteremo intanto il video promozionale su Isola del Gran Sasso d'Italia, realizzato dall'editore Desiena con le riprese veramente straordinarie di Giancarlo Malandra. Poi presenteremo uno speciale giornalistico di 16 pagine uscito su Tesori d'Abruzzo, tutto dedicato a Isola del Gran Sasso a mia firma. E poi la chicca invece rappresentata da questo percorso emozionale, cioè una miscela di immagini, musica e testi, testi miei, dedicati esclusivamente a Isola del Gran Sasso. Una sorta di tour attraverso il cuore e l'anima, non descrittivo ma appunto molto emozionale. Il tutto in questo ambiente dove verrà ricordato il maestro Morricone con delle musiche straordinarie e soprattutto in Abruzzo dal vivo, cioè territori che vogliono ripartire, Isola del Gran Sasso ha bisogno anch'esso di ripartire dopo il sisma, ma anche dopo questo periodo di lockdown che ha un po' bloccato non solo l'economia dei paesi ma anche la cultura, le tradizioni e le usanze. Sì, tutto assolutamente vero. Un grande poeta bolognese ma molto legato all'Abruzzo che era Roberto Roversi, scrisse una poesia toccante che diceva Abruzzo piagato ma mai piegato. Ecco, questo è veramente quello che siamo noi. Siamo abruzzesi tenaci, desiderosi di far conoscere le nostre straordinarie bellezze. Sono bellezze plurali perché sono percorsi d'arte, percorsi ambientali, percorsi di fede. Ci troviamo proprio a Isola del Gran Sasso che voglio ricordarlo è la sede di uno dei santuari in assoluto più frequentati in Italia e tra i più frequentati al mondo che è quello di San Gabriele dell'Aldolorata. Abbiamo veramente tanto, compresa la enogastronomia. Sono dei tesori, uno scrigno di tesori che noi dobbiamo in un momento come questo far conoscere ancora di più e meglio e operazioni come queste servono appunto a veicolare l'immagine di un Abruzzo bello, di un Abruzzo dove la qualità della vita è molto elevata e di un Abruzzo che vuole risollevarsi. Questo borgo serrato a pugno è il prima di ogni tempo. Il gomitolo di strade infervora i tetti, gioca con le linee del mutuo a vicendarsi delle case nei loro festosi sobbalzi. Palpita la bellezza nei crocicchi che hanno incontrato la storia. È una domanda che spesso faccio agli amministratori ma questa sera ci sei tu e ti voglio sfruttare perché insomma anche sotto l'aspetto amministrativo so che puoi darmi qualche chicca importante. A proposito di percorsi, è più importante il percorso che va dalla ricostruzione morale, spirituale e anche culturale per poi arrivare a quella materiale perché qui c'è bisogno anche di quella ricostruzione? Oppure tu preferisci il percorso inverso? Cioè prima la ricostruzione materiale quindi delle case, dei palazzi, degli alloggi per poi riempire i cuori con questa bella musica ai tanti concittadini che hanno sofferto? È una domanda molto difficile in realtà perché le due cose dovrebbero andare e stare insieme. È impossibile fare una ricostruzione materiale se non partendo proprio dalle macerie spirituali. Tutto quello che noi abbiamo subito, cioè il terremoto, la neve e adesso anche questa pandemia, ha sicuramente creato un contracolpo psicologico molto forte. Quindi c'è bisogno davvero di ricostruire la nostra forza psicologica. E d'altro canto però la forza psicologica può avere un suo nutrimento anche dalla ricostruzione dei luoghi fisici, cioè quelli nei quali sono depositate le nostre storie, nei quali c'è il nostro vissuto e nei quali c'è anche la nostra identità. Quindi io spero sempre che piuttosto che un out-out sia un et-et, cioè invece di essere o-o sia invece un e-e, cioè sia la ricostruzione materiale e di pari passo sia la ricostruzione psicologica e spirituale. Te la volevo fare a microfoni e telecamere spente ma te la faccio adesso con tutto l'impianto attivato, diciamo così. C'è un sogno nel cassetto di Sandro Galantini che ancora deve essere tirato fuori oppure hai raggiunto tutti gli obiettivi che avevi immaginato da qui a 40 anni addietro? Dimmi tu poi se sono di più. La vita di ogni persona è una vita spesso la stricata di grandi dolori e però ci sono anche dei voli. Molti dei miei voli sono stati dei voli pindarici, mi sono avvicinato probabilmente troppo al sole, le mie ali si sono sciolte e sono caduto miseriamente. Ecco, forse il desiderio è avere quella saggezza che ti permette di fare un passo per volta e farlo in sicurezza. Ci sono ancora delle cose che intendo fare, a Dio piacendo naturalmente, spero di poterle fare e comunque anche quello che ho fatto credo che sia per me già soddisfacente e quindi sono una persona tutto sommato felice ed equilibrata. Mi riconosco nei tuoi colli che scendono a petarsi a valle recando i segni delle mie mappe esistenziali. Mi riconosco nelle guglie dei tuoi monti che sono per me torri della memoria e quando l'alba scopre con la brina il tuo cielo, il senso delle cose non si occulta, non mi si nega. Penso allora, isola del Gran Sasso, che l'universo sia in queste mie parole che ti cercano, nella magica levigadezza del tuo sguardo e nella tenera fuga tra le tue braccia. Tu, isola, sei il ricordo della storia che riempie di ogni stupore la pietra. Sei la brezza del giro lento che inonda il castagno, la quercia e la campagna aperta al giorno. Sei un sorriso che dona trasparenza all'anima. Sei un gomitolo di strade docili all'orma del passante. Tu, tu sei l'isola del Gran Sasso d'Italia, un respiro d'amore in largo orizzonte.